Salve amici, siamo giocatori per caso. Facciamo l'incarico, configura dispositivo al santuario e quello subito successivo posizione a munizioni anticarro e vedrete che ci mettiamo poco. La prima cosa da fare è andare al santuario. Allora, leggermente a sud del santuario c'è questo piccolo collinetto, piccolo promontuorio, dove c'è, se andate sopra, se riuscite a salire, dove c'è questa palma. Adesso mi giro e vi faccio vedere la posizione. Vedete, quello è il santuario. Proprio qui a sud c'è questo. Andate lì e prendete la sfida vera e propria. Posiziona e munizioni anticarro. Dobbiamo posizionare tre munizioni anticarro e lasciarle in giro qua e là. La cosa forse migliore da fare è aprire la mappa e guardare un attimo la posizione delle varie cose, cliccando sul nome della sfida. Comunque, se noi andiamo in direzione est, da dove eravamo prima, qua c'è il primo accampamento. Lo vedete questa colonna bianca verso l'alto? Questa qui è la prima posizione anticarro. Bene, basta di premerla e la posizionate. Adesso possiamo cercare anche le altre. Questa parte l'ho accelerata perché non era tanto importante. Alla fine uno mi ha attaccato, mi è andata bene, ho vinto io. Allora, selezioniamo il secondo punto. È a nord, esattamente a nord di dove dobbiamo andare. Di dove sono io in questo momento, scusate. Quindi un altro che mi insegue, cerchiamo di scappare perché non ho voglia di perdere altro tempo a ammazzare le persone o, peggio ancora, morire io. Se noi andiamo a nord, seguendo il ping che avevo messo, lo troviamo appena qui. Adesso, ad esempio, questi qui sono vicino alla barricata. Ci sono queste barricate sulla destra. Adesso mi giro. Vedete? Fatte con sacchi pieni probabilmente di sabbia. E lì in mezzo ci sono le munizioni. Eliminato il secondo giocatore, per fortuna, metto di nuovo un altro ping e andiamo verso nord. L'ho eliminato ma mi sono rimesso nella stessa posizione in modo da non lasciarvi col fiato sospeso per capire le posizioni. Allora, qui dovrebbe essere al di là non del muro ma del palazzo. Per sicurezza passo sopra il confine, sopra il muro di Accinta, così lo vedo meglio. Sì, esatto. Dovete attraversare tutto il santuario e andare di qua. Anche qui è in mezzo al recinto, questo recinto di sacchetti di sabbia. Guardate, questa è la posizione vicino alla votazione in base a che arma volete. Venite qua, premete la E e anche questo è fatto. L'abbiamo trovato tutte e tre. Bene, spero di esservi stato utile in questo video. Magari scrivetemi cosa ne pensate nei commenti. Ciao e alla prossima! Se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche. Iscriviti al nostro canale.